Salve, nel Consiglio regionale di domani 3 novembre, il Movimento 5 Stelle presenterà una mozione che riguarderà lo stato di gravità del nostro patrimonio edilizio scolastico. Il 40% di questi immobili sono privi del certificato d'abitabilità, il 60% sono costruiti prima del 1974 e una buon quantitativa di immobili sono privi del certificato di antincendio. Chiederemo a Rossi che si rivolga a Renzi battendo i pugni sul tavolo affinché il decreto mutui sia rivisto. Chiederemo che sia indetto, sia potenziato quello che è un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria affinché il nostro patrimonio scolastico sia alla stessa altezza di quello degli altri paesi europei. Vorremmo che fossero attivate tutte quelle coperture che andranno a coprire le mancanze del decreto mutui. Quindi Rossi, batti i pugni sul tavolo diversi.